San Leo, è lui il patrono di San Martino in Pensilis. Per lui ogni anno in segno di devozione da secoli corrono i carri. Il vincitore ha l'onore di portare il busto d'argento in processione per le vie della città. Quest'anno è toccato ai giovanotti che si sono aggiudicati per il secondo anno consecutivo, la vittoria, inforcando per primi Porta San Martino. Con la messa e la processione c'è proprio il culmine religioso dei festeggiamenti in onore di San Leo. Questo giorno ricordiamo innanzitutto la traslazione di San Leo dall'antica chiesa di Santa Maria all'attuale sistemazione nella chiesa parrocchiale di San Pietro. E insieme ricordiamo la festa che il popolo di San Martino, la comunità cristiana di San Martino, ha vissuto quando il carro con le reliquie del santo si è fermato dinanzi alla chiesa di Santa Maria. Che è ancora esistente come sito, come costruzione, anche se non è più chiesa. Questo luogo è ancora proprietà della comunità che vive là a Santa Maria ai suoi momenti di catechese e di formazione cristiana. Alla processione quest'anno per la prima volta ha partecipato anche la città di Ielsi, fresca di gemellaggio proprio con San Martino. Il comitato ha portato in corteo anche il carro con la statua di Sant'Anna. L'emozione è tanta perché sto rivivendo quello che noi riviviamo ogni 26 luglio. Vedo qui tantissima gente e tanta gente devota a San Leo come noi siamo devoti a Sant'Anna. Quindi un grande evento non solo culturale ma anche religioso. Soddisfatto di quest'edizione anche il sindaco di San Martino, Vittorino Facciolla. È stata meglio delle previsioni, tranne qualche incidente che ha coinvolto i due carri dei giovani e dei giovanissimi e qualche ferito. Però sembra che adesso anche coloro i quali hanno riportato delle ferite stiano ristabilendosi un po' alla volta. Quindi grazie vuol dire San Leo comunque è stato l'attento protettore di sempre anche per l'incolumità dei nostri cittadini. Grazie a tutti.